Ciao a tutti ragazzi, nel video di oggi vi parlerò del Nexus 4 e ne approfitto per ringraziare lo staff di Fandroid. Bene, ormai siamo tutti in attesa dal Nexus 6, però noi siamo qui a farvi la recensione del Nexus 4 prodotto da LG nel lontano 2012. All'uscita lo smartphone in Italia aveva un prezzo molto elevato proprio perché non era venduto sul Play Store ad oggi, però è fuori produzione, quindi si può trovare in qualche negozio, però ha un prezzo intorno ai 300€, quindi non ne vale più la pena questo prezzo dato che il Nexus 5 costerebbe nuovo allo stesso prezzo. Come usato potrebbe essere invece una buona opportunità. Allora, parliamo del display che è un 4.7 pollici HD, possiede una fotocamera frontale, sensore di prossimità e di luminosità. Poi abbiamo nella parte posteriore una fotocamera da 8 megapixel con flash LED. Il retro è completamente in vetro, quindi diciamo ha dei materiali pregiati. Sempre dietro è presente lo speaker, che è un problema che posso dietro anche se ci sono questi due piedini, ma dopo vi farò vedere come suona. Nella parte superiore invece abbiamo il jack delle cuffie, nel laterale destro il tasto power, nel laterale sinistro il bilanciere del volume e l'ingresso della micro sim. Ok, ho messo il pin, ovviamente possiede Android 4.4.4, ovvero l'ultima versione di Android ad oggi disponibile. Non sappiamo se verrà aggiornato ad Android Dell, questo dipende solamente da Google, anche se 18 mesi di supporto di questo telefono sono finiti. Allora, il sistema ovviamente è molto fluido, grazie anche ai 2 GB di RAM il processore Snapdragon S4 Pro a 1.5 GHz. Infatti non ci sono problemi di nessun tipo, andiamo a vedere la RAM disponibile. A questo momento ho appena acceso 406 MB usati, però vi posso dire che dopo lo si usa un po', io che lascio tutte le applicazioni aperte, mi consuma circa un giga, ma ovviamente poi ne rimane quasi un altro giga disponibile e quindi non ci sono problemi. Allora, andiamo a vedere subito il problema dell'audio. Vi faccio sentire questa canzone. Allora, così è al massimo. Il volume aumenta notevolmente quando il telefono si sposta al tavolo. Questo cosa significa? Che già le notifiche, come la suoneria, i messaggi e tutti gli altri tipi di notifiche, si sentono molto attenuati quando il telefono è appoggiato su un tavolo. Vi posso dire che se lo appoggiate su un divano, su un cuscino, sul letto, non sentirete assolutamente nulla. Fortunatamente è presente un LED di notifica RGB, quindi almeno potete vedere se, anche a schermo spento, se vi sono arrivate delle chiamate o dei messaggi, però questo problema dell'audio non è stato risolto anche se sono stati implementati questi due piccoli piedini per sollevare lì ovviamente lo smartphone, ma non fanno più di tanto. Bene, adesso vi faccio vedere la fotocamera. Andiamo, ok. Allora, questa fotocamera non ha molte impostazioni, abbiamo la possibilità appunto di girare video, video che girano a 1080p a 30fps, abbiamo la possibilità di usufruire la fotocamera frontale a 720p, del flash, della griglia, poi possiamo utilizzare sfocatura obiettivo, che farò vedere nella review della fotocamera, quindi una recensione più approfondita, la panoramica e Photosphere. Stessa cosa per queste, però vi spiego brevemente cosa servono. Photosphere serve per fare una foto, diciamo, a 360 gradi, quello che ci circonda, la panoramica, una semplice panoramica, una funzione presente bene o male su tutti gli smartphone, e infine sfocatura obiettivo che ci vuole dare l'effetto di una reflex, perché magari abbiamo un soggetto a due metri di distanza, mette a fuoco lui e sfoca poi tutto il resto. Allora, nella fotocamera abbiamo appunto possibilità di utilizzare flash LED, HDR, la griglia, il timer e l'esposizione. Poi, se noi andiamo in questo piccolo menu, abbiamo possibilità di impostare le varie risoluzioni, sia della fotocamera che della videocamera, appunto 1080p 720p, questa è la risoluzione della panoramica, qualità dell'obiettivo. Possiamo anche impostare il geotagging e poi abilitare l'esposizione manuale, insomma ci sono pochissime impostazioni. Però, sicuramente la fotocamera è stata migliorata nel tempo con gli aggiornamenti di Google, invece vi voglio fare vedere la galleria delle immagini, così per farvi vedere lo schermo. In questo momento è a luminosità massima, sì, luminosità massima, allora questa è la minima, ovviamente con la videocamera non si riesce a capire. Allora, lo schermo è un IPS, non un AMOLED, quindi sicuramente i neri non sono veramente neri, però vi devo dire che ha una buona qualità, sia come dettagli che come colori non ho notato alcun tipo di problemi. Qua, che vedete, grigiastro, non è il nero che abbiamo visualizzato grigio, ma sono proprio la galleria di Android, perché infatti qua se vedete il bianco e il nero il contrasto è elevato. Appunto questa è un'immagine del nero, che visto anche a luminosità alta sembra nero, poi ovviamente se noi tendiamo a inclinare il display un po' ci dà un effetto particolare, non come Nexus 5 che appena inclinato sembra veramente un display di un telefono di pochi euro, ma sto parlando solamente dell'inclinazione, attenzione, non del display in sé. Bene, questa è una foto subacquea, queste altre foto per fare vedere anche i colori vengono rappresentati bene, questo il bianco, punto sulla neve e basta. Questa è la galleria principale di Android che sicuramente verrà soppiantata più in là dalla galleria foto, dalla galleria foto che sicuramente sarà l'unica con Android L, sicuramente, quasi sicuramente. Bene, è presente ovviamente il GPS, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, questa versione è la versione da 16 giga, abbiamo disponibili 12 giga e 92. La batteria è una 2100 mAh e bene o male riesco a fare una giornata se non utilizzato intensamente. Il mio massimo è stato 4 ore di schermo utilizzando solo il Wi-Fi col 3G attaccato ma non utilizzando i dati perché appunto utilizzavo il Wi-Fi. Sono riuscito a farla solo una volta questa cosa, se no riesco a fare due giorni ma utilizzando pochissimo quindi magari arrivare a fare due ore e mezzo di schermo acceso con due giorni. Quindi il telefono in stand-by non consuma praticamente nulla, consuma veramente poco e il display come in tutti i telefoni che consuma moltissimo. Bene, adesso vi faccio vedere il browser, andiamo su AS Video, ha caricato prontamente la versione mobile, andiamo la versione standard, ok, siamo ovviamente sotto la rete Wi-Fi, Wi-Fi che a mio parere non è il massimo perché almeno con altri smartphone, anche con Moto G stesso, aveva un segnale poco più forte. Stiamo parlando di una tacca, la velocità non, diciamo bene o male, è la stessa in linea con gli altri smartphone, però appunto proprio le tacche vedo che sono inferiori, ad esempio ora siamo a circa due metri dal router e da questo piccolo problema, non che il router sia dei più potenti però il Wi-Fi poteva essere sicuramente migliorato. Ok, andiamo in una sezione, se Chrome ce lo permette con questo piccolo zoom che fa sempre. Bene, non ci sono problemi di nessun tipo, ovviamente il nostro è un sito veramente molto leggero perché ci sono poche cose all'interno della pagina. Vediamo, apriamo un video di YouTube, ok, viene riprodotto tranquillamente, ne apriamo un altro, giusto per stressarlo un pochino, basso il volume se no si impazzisce. Sono riprodotti correttamente tutti e due, ovviamente se ne aprirò altri piano piano inizierà a rallentare. Bene, possiamo andare su qualche sito, ad esempio andiamo su Corriere della Sera, se ci riusciamo, ok. Bene, sono andato sul sito Corriere.it, scusate il salto ma non stavo riuscendo a richiedere la versione desktop. Bene, su questo sito anche se ci sono tante pagine, tante informazioni, come vedete il Nexus non ha problemi. Ecco, sono entrato, ok, qua vuole entrare in una news qualsiasi, ok. Non ci sono problemi di nessun tipo, con lo zoom in, zoom out, ok, perfetto. Quindi, quello che vi posso dire di questo Nexus è che sicuramente ha un'ottima fluidità, ha, dalla parte sua, ottimi materiali. La fotocamera da 8 megapixel poteva essere fatta in maniera migliore, però tutto sommato, con qualche piccola accortezza, si riesce a fare qualche buono scatto. Stessa cosa il display, anche se è un HD, quindi 1280x768, risulta ben definito e i pixel si noteranno solamente se il display viene portato veramente proprio a pochi centimetri dall'occhio. Ovviamente, come tutta la linea Nexus, non è presente la microSD, sfortunatamente questo è un punto a sfavore, a mio parere, di questi smartphone, perché se uno prende l'azione 16GB, vuole mettere tanta musica, vuole fare video, foto, magari in un viaggio, si ritrova costretto a eliminare determinate cose. Manca l'LTE, perché appunto è un modello anche non novissimo. Infine, a mio parere, questo display fatto così, col bordo proprio curvo, quindi che non è incavato, è molto bello, ma è anche pericoloso, per virgolette, perché si rischia così di graffiarlo. Se noi lo poggiamo proprio così, ovviamente toccherà tutto il display, quindi magari lo spostiamo un attimo, c'è un granello di polvere e senza pellicola, rischiamo di rovinare tutto il display. Quindi, a mio parere, conviene utilizzare una cover, come minimo, pellicola, io sono del tipo da cover e pellicola, però proprio su questo smartphone una protezione è, secondo me, necessario utilizzarla. Bene, questo è tutto, se avete altre domande o dubbi, non esitate a commentare.